carissimi amici amiche siamo collegati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla storia di maria di magdala la vicenda di marina di magdala degli scritti di maria valtorta e siamo giunti nel momento assolutamente centrale focale in cui maria di magdala dinanzi al capezzale del fratello lazzaro defunto assisterà alla portentosa resurrezione del fratello sarà un evento assolutamente decisivo per la sua vita tanto è vero che il capitolo si intitola la portentosa resurrezione del fratello d'ora in poi lei vivrà di fede quindi ci accingiamo come sempre alla lettura e poi al commento di questo brano commento fatto durante la lettura questa sera stiamo provando sto provando a target un pochino differente per quanto riguarda la diretta anche se questo non interesserà poi a chi ascolterà il video su youtube differita o il podcast la puntata di questa sera va appunto eccezionalmente a titolo sperimentale in diretta su tre piattaforme inedite quindi su youtube su tik tok e su instagram per cercare di raggiungere il maggior numero di utenti possibili ricordo che su youtube possono intervenire nella chat live gli abbonati onde evitare conclusioni poco poco consono durante la diretta mentre al termine della diretta dopo la diretta io aprirò il canale telegram per dare la possibilità agli iscritti al canale di interloquire quindi di fare le domande che chiaramente che si ascolteranno anche durante le dirette quindi un po un programma un impegnativo vediamo come come va fatte queste brevi premesse comincio subito la la lettura e la portentosa resurrezione del fratello d'ora in poi lei vivrà di fede tanto per tanto per un'idea ecco già va bene ok gesù viene verso betania da insieme se devono aver fatto una marcia veramente faticosa su per i sentieri rompicollo dei monti a domini gli apostoli sfiatati stentano a seguire gesù e che va rapidamente come l'amore lo portasse sulle sue aree di fuoco gesù ha un sorriso radioso mentre procede avanti a tutti a testa alta sotto i raggi tiepidi del sole meridiano prima che giungano le prime case di betania lo vede un ragazzetto scalzo che va verso la fonte presso il pari paese con una brocca di rame vuota da un grido posa la brocca in terra e via di corsa con tutta la velocità delle sue gambette verso l'interno del paese certo vado avvisare che tu giungi osserva giuda taddeo dopo aver sorriso come tutti della risoluzione energica del ragazzino che ha abbandonato anche la sua brocca alla merced il primo che passa la cittadina vista così da presso la fonte che è un poco più in alto del paese appare quieta come deserta solo il fumo bigio che si alza dai camini indica che nelle case sono le donne intente a preparare il pasto meridiano e qualche grossa voce di uomo fra gli olivi e frutteti vasti e silenziosi aperte che gli uomini sono al lavoro ciò nonostante gesù preferisce prendere una viottola che passa alle spalle del paese per poter giungere da l'anzaro senza attirare l'attenzione dei cittadini sono quasi a mezzo tragitto quando si sentono alle spalle ragazzetto di prima che li sorpassa correndo e poi si punta in mezzo alla via a guardare gesù pensieroso la pace a te piccolo marco hai avuto paura di me che sei fuggito chiede gesù carezzandolo io no signore che non ho avuto paura ma siccome per molti giorni marta e maria hanno mandato servi sulle strade che vengono qui a vedere se venivi ora che ti ho visto sono corso per dire che venivi hai fatto bene le sorelle si prepareranno il cuore a vedermi no signore le sorelle non si prepareranno nulla perché non sanno nulla non hanno voluto che lo dicessi mi hanno preso quando ho detto entrando nel giardino c'è i rabbi e mi hanno cacciato fuori dicendo sei un bugiardo o uno stolto egli ormai non viene più perché ormai è certo che non può più fare il miracolo e poiché io dicevo che eri proprio tu mi hanno dato due schiaffoni come ancora non ne avevo presi mai guarda qui che guance rosse mi bruciano e mi hanno spinto via dicendo questo per purificarti di aver guardato un demonio io ti guardavo per vedere sei diventato un demonio ma non lo vedo sei sempre il mio gesù bello come gli angeli che la mamma mi dice gesù si china a baciarlo sulle gotine schiaffeggiate dicendo così ti passa il pizzicore ne ho dolore che per me tu abbia sofferto ah io no signore perché quegli schiaffi mi hanno fatto dare due baci da te e gli si attacca le gambe sperandone altri di un po marco chi è che ti ha cacciato quelli di lazaro chiede il taddeo no i giudei vengono per il cordoglio tutti i giorni sono tanti sono in casa e nel giardino vengono presto vanno via tardi sembrano i padroni loro ma trattano tutti vedi che non c'è nessuno per le vie i primi giorni si sta a vedere ma poi ora sono noi bambini si gira per ora mia brocca la mamma che aspetta l'acqua ora mi picchierà anche lei sorridono tutti della sua desolazione davanti alla prospettiva di altri schiaffi e gesù dice vai allora svelto è che volevo entrare con te vederti fare il miracolo e termina e vedere le loro facce per vendicarmi degli schiaffi no questo no dice gesù non devi desiderare vendetta essere buone e perdonare devi la mamma aspetta l'acqua vado io maestro so dove sta marco spiegherò alla donna e ti raggiungerò dice giacomo di zebedeo correndo via si rimettono in cammino lentamente e gesù tiene per mano il bambino gongolante eccoli alla cancellata del giardino la costeggiano molte cavalcature stanno legate ad essa sorvegliate dai servi dei singoli proprietari il bisbiglio che si leva da essi attira l'attenzione di qualche giudeo che si volge verso il cancello aperto proprio nel momento che gesù pone piede sul limitare del giardino il maestro dicono i primi che lo vedono e questa parola scorre come un fuscio di vento da gruppo a gruppo si propaga come un'onda venuta da lontano a spezzarsi sulla riva si incontro i muri della casa e vi penetra certo portato dai molti giudei presenti o da qualche fariseo rabbì o scribo o sadduceo sparsi qua e là gesù si inoltra molto lentamente mentre tutti pur accorrendo da ogni parte si scansano dal viare sul quale egli cammina e dato che nessuno lo saluta egli non saluta nessuno come neppure conoscesse molti dei lì radunati e guardarlo con l'ira e l'odio negli sguardi meno i pochi che essendogli discepoli occulti o perlomeno essendo diretto cuore anche se non lo amano come messia lo rispettano come un giusto e questi sono giuseppe nicodemo giovanni eleazzaro l'altro giovanni scriva visto per la moltiplicazione dei pani e l'altro giovanni ancora che sfamò i discesi dal monte delle beatitudini gamaliele col figlio suo giosuè gioacchino mannaen lo scriva gioele di abbia incontrato al giordano nell'episodio di sabbia giuseppe parna discepolo di gamaliele cusa che guarda gesù da lontano un poco intimidito di ripeterlo dopo lo sbaglio fatto o forse preso dal rispetto umano che lo trattiene dal farsi avanti come amico certo è che negli amici osservatori sensastico nei nemici salutano e gesù non saluta si è limitato ad un generico inchino mettendo piede sul viale poi ha proceduto diritto come strano la molta folla che ha dintorno il ragazzetto gli cammina sempre al fianco nelle sue vesti di contadinello e coi piedini scalzi di bimbo povero ma col viso luminoso di chi è in festa gli occhietti neri vispi ben aperti a tutto vedere e a sfidare tutti marta esce dalla casa fra un gruppo di giudei visitatori tra i quali sono mescolati e il chia e sadoc si fa solecchio con la mano per aiutare gli occhi stanchi di pianto ai quali appena usa la luce a vedere dove è gesù lo vede si stacca da chi raccompagna e corre verso gesù che a pochi passi dalla vasca che brilla di baglioni colpita come dal sole si getta ai piedi di gesù dopo il primo inchino e glieli bacia mentre dice fra un grande scoppio di pianto la pace a te maestro anche gesù l'ha detto non appena la vista vicina la pace a te ed ha alzato la mano a benedire lasciando andare quella del bambino che viene preso per mano da bartolomeo e tirato un poco indietro marta prosegue ma pace per la tua serva non c'è più alza il viso verso gesù stando ancora in ginocchio e con un grido di dolore che si sente bene nel silenzio che si è fatto esclama lazaro è morto se tu fossi stato qui egli non sarebbe morto perché non sei venuto prima maestro a un involontario tono di rimprovero nel fare questa domanda poi torna al tono accasciato di chi non ha più forza per rimproverare e all'unico conforto del poter ricordare gli ultimi atti e desideri di un parente al quale si è cercato di dare ciò che desiderava e non c'è rimorso perciò in cuore ti ha tanto chiamato lazaro il fratello nostro ora vedi io sono dolente e maria piange e non sa darsi pace ed egli non è più qui tu sai se lo amavamo speravamo tutto da te un mormorio di compassione per la donna e di rimprovero per gesù un assentire al sottinteso pensiero e potevi esaudirci perché noi lo meritiamo per l'amore che abbiamo per te e tu invece c'è delusi scorre da gruppo a gruppo frascotiti teste o sguardi derisori sono i pochi occulti discepoli sparsi fra la folla presente hanno sguardi di compassione per gesù che ascolta molto pallido e mesto la dolente che gli parla gamaliere le braccia concerti al petto nella sua ampia e ricca veste di lana finissima ornata di fiocchi azzurri un poco in disparte fra un gruppo di giovani in cui è suo figlio e giuseppe barnaba guarda fissamente gesù senza odio e senza amore marta dopo essersi asciugato il volto riplende a parlare ma anche ora io spero perché so che qualunque cosa tu chiederai al padre ti sarà concessa una dolorosa eroica professione di fede detta con la voce che trema di pianto con l'ansia che trema nello sguardo con l'ultima speranza che trema nel cuore tuo fratello risorgerà alzati marta marta si alza rimanendo curvo in venerazione davanti a gesù al quale risponde lo so maestro egli risorgerà dall'ultimo giorno io sono la risurrezione la vita chiunque crede in me anche se morto vivrà e chi crede in me non morrà in eterno credito questo gesù che prima aveva parlato con voce piuttosto bassa unicamente a marta per dire queste frasi in cui proclama la sua potenza di dio alza la voce e il perfetto timbro di essa e che già come uno squillo d'oro nel vasto giardino un fremito quasi di spavento scuote gli astanti ma poi alcuni dignano scuotendo il capo marta alla quale gesù pare volere trasfondere speranza sempre più forte tenendo la mano appoggiata sulla spalla alza il viso che teneva curvo lo alza verso gesù fissando i suoi occhi addolorati nelle luminose pupille di cristo e stringendo le mani sul petto con un'ansia diversa risponde sì signore io credo questo credo che tu sei il cristo il figlio di dio vivo venuto nel mondo e che tutto e che puoi tutto ciò che vuoi credo ora vado ad avvertire maria e va via le sta scomparendo nella casa facciamo il primo la prima sosta perché la lettura è abbastanza impegnativa questa sera il brano è molto lungo del resto anche nella sacra liturgia quando si legge l'episodio della risurrezione di lazaro è un vangelo impegnativo perché è lungo l'episodio è complesso qui viene eseguito molto fedelmente il brano evangelico salvo il preambolo e soprattutto il dialogo tra il primo dialogo tra marta e gesù a cui seguirà lo leggiamo più avanti quello tra maria e gesù prima di operare il miracolo della risurrezione alcune cose da sottolineare il clima che circondava gesù forte ostilità da parte dei nemici e come dire poca empatia poca vicinanza calda non saprei come nominarla da parte dei pochi amici anche tra i tre cosiddetti altolocati dell'epoca qui ma maria voltorta ha fatto una serie di nomi che soltanto chi ha letto l'opera ha familiarizzato con essi anche se alcuni si trovano nella saga scrittura per esempio mi ha maliede per esempio mannaen atti degli apostoli è nominato così come cusa che era l'amministratore di erode è nominato esplicitamente dal vangelo secondo san luca ecco quindi il comportamento di gesù non lo salutano quindi manifestando un chiaro disprezzo e gesù non saluta mi viene neanche insomma da evocare diciamo così una norma di galateo di buona educazione che oggi non è così tanto conosciuta e anche questo a mio avviso è un segno di tempi perché qui purtroppo stiamo una delle cose a mio avviso veramente tristi brutte di questi tempi abbastanza decadenti è proprio la dilagante maleducazione io ho già detto altre volte faccio una fatica veramente veramente grande perché la buona educazione la buona creanza è veramente una cosa bella che rende che rende bella la vita allora gesù non saluta perché perché figlioli me cari sono lui deve essere salutato e ricambiare il saluto non viceversa anzi che accenna un inchino fa un qualche cosa che è un di più perché figlioli me cari Gesù non era soltanto un grande rampi Gesù era figlio di dio io sono un sacerdote vi assicuro insomma che non è molto chiara nella coscienza delle persone dei fedeli che se qualcuno mi incontra per strada in teoria io dovrei rispondere al saluto non lo faccio in pratica perché immaginate che capisco benissimo l'ambiente che gira se non salutassi a volte tante volte io per primo questo sarebbe scambiato come il prete non mi ha salutato quindi ma veramente non funziona ma non lo dico per me lo dico per chiunque altro sarebbe come cioè se io vado in un consesso dove dove ci sono non lo so pochino di vescovi e aspetto che loro mi salutino prima di salutarli ma è completamente fuori del mondo no la maleducazione figlioli miei cari purtroppo uno dei segni dell'attuale decadenza lo spirito di di astio di odio che circondava Gesù il trattamento che riservano a quel povero bambino insomma che l'aveva visto che era andato ad annunciare la sua venuta e poi la cosa più importante è questo primo dialogo con marta marta l'abbiamo seguita nelle puntate precedenti il suo carico immenso di dolore che la portata che occupi un gesto di disobbedienza mandare a cercare Gesù prima del tempo trasgredendo un ordine che gli era stato dato e qui sta ovviamente affranta si lamenta in primi se vedete che assuma che assume toni quasi di rimprovero certamente qui c'è anche l'umana debolezza no però figlioli miei cari noi dobbiamo fare sempre attenzione anche alle nostre preghiere perché con domine dio non possiamo mai assumere un tono di rimprovero perché domine dio lo sa quello che fa da questo riguardo volevo leggervi per capire come domine dio lo sa quello che fa e quindi di non permettersi di rimproverarlo è una cosa che mi è arrivata nei giorni scorsi la trovo al volo veramente molto molto edificante un aneddoto neanche troppo ballerino messo in giro da un sacerdote sentite come si chiama il crocifisso e il monaco guardate che bello che è a proposito del non lamentarsi e di non mettersi a fare i consiglieri dell'altissimo perché l'altissimo sa bene quello che fa cioè noi lo sappiamo col senno di poi che gesù apposta non era stato da nazzaro perché lo ha fatto passare per la morte perché voleva attraverso l'ultimo e più strepitoso miracolo dare l'ultimo segno inequivocabile della sua natura divina e quindi dare una grazia ancora più grande di quella che si aspettava non la guarigione ma la risurrezione la più strepitosa riservata al suo miglior amico è soltanto che fino a quando non si arriva alla fine questa cosa non si capisce per cui se uno comincia a giudicare il signore e le sue opere prima del tempo ah se tu fossi stato qui l'alzaro non sarebbe morto ma come mai non ci sei stato però ma cioè il tuo miglior amico ma potevi pure farlo no allora vi leggo quest'aneddoto il crocifisso è il monaco spero di non dilungarmi troppo un monaco di nome Serafino sentite bene chiedeva con insistenza al signore di poter prendere il suo posto sulla croce perché voleva condividere condividere in tutto il ruolo di Cristo un giorno il crocifisso accettò ma a un patto il signore Gesù gli disse che tu stia zitto Serafino essendo monaco abituato al rigore all'osservanza del silenzio promisi immediatamente il Cristo scese allora dalla croce che era in chiesa e vi salì invece il monaco Serafino adesso ascoltate bene entrò un ricco a pregare e mentre pregava gli scivolò giù il sacchetto dei soldi si alzò per andarsene Serafino che aveva visto avrebbe voluto dirgli che gli era caduto il sacchetto però si era impegnato a tacere e quindi tacque subito dopo entrò un uomo povero cominciò a pregare ma gli cadero subito gli occhi su quel sacchetto dei soldi si guardò intorno non c'era nessuno che lo vedesse prese il sacchetto se lo mise in tasca e scappò Serafino avrebbe voluto dirgli che non doveva prenderli perché non erano suoi ma si era impegnato a stare zitto e dunque tacque poi entrò un giovanotto che si mise devotamente in ginocchia ai piedi del crocifisso chiedendo aiuto e protezione perché stava per mettersi in viaggio per mare in quel mentre entrò l'uomo ricco con i gendarmi dicendo che aveva lasciato in chiesa il sacchetto dei soldi l'unica persona presente era quel giovanotto e i gendarmi lo presero e lo arrestarono a quel punto Serafino non riuscì più a stare zitto e gridò è innocente figuratevi il crocifisso parlante salvò quel giovane dalla galera perché in forza di quella voce fecero meglio le indagini lasciarono andare il giovanotto che si imbarcò e arrestarono il povero che aveva preso i soldi ed il sacchetto con i denari fu restituito al ricco alla sera il Cristo tornò con la faccia scura quindi perfetto no? tutto bene adesso sentite che cosa succede alla sera il Cristo tornò con la faccia scura e rimproverò severamente Serafino così non va proprio bene ma come signore? risponde Serafino ti avevo detto di stare zitto dice Gesù ma ho rimesso a posto le cose ho fatto giustizia controbatte Serafino disse allora il Signore no Serafino tu hai sbagliato tutto il tuo impegno era quello di tacere me lo avevi promesso invece parlando tu hai rovinato la mia azione e adesso sentite quel ricco stava per fare un'opera cattiva con quei soldi e io glieli ho fatti perdere quel povero ne aveva bisogno e io glieli ho fatti trovare quel giovanotto ora sta naufragando in mare mi aveva chiesto aiuto se fossi andato in prigione almeno per un giorno avrebbe perso la nave e non sarebbe morto hai rovinato tutto non sei in grado di metterti al mio posto caro Serafino anche se sei un monaco e ti consideri avanti nella vita spirituale la mia provvidenza guida le cose meglio di voi anche quando sembrano andare per storto avete sentito la storiella? edificante no? spesso vorremmo risposte da Dio e ce la prendiamo con il crocifisso che non ci parla lui non parla ma invece sempre opera secondo il nostro miglior bene ringraziamolo allora perché Cristo ci ascolta sempre sempre ci aiuta anche quando le cose sembrano andare male abbiamo fede e confidiamo in Gesù e non resteremo delusi visto che bello? questa è la storia della risurrezione di Lazaro la storia della risurrezione di Lazaro è proprio emblematica di questo racconto perché tutti Marta Maria e i giudei ah se fosse stato qui non sarebbe morto ah se fosse stato qui un mantra ah se fosse stato qui non sarebbe morto ah ma ha aperto gli occhi al cieco nato ah ma ha guarito tanti ah e non guarisce il miglior amico insomma qui tutto a fare lezioni di comportamento addomine Dio amici noi ci crediamo che Dio sa quello che fa ci crediamo punto interrogativo e qui c'è il dialogo a un certo punto e notare l'imponenza quando Gesù proclama io sono la risurrezione alla vita chiunque crede in me anche se è morto vivrà chi crede vive in me non morrà in eterno credi tu questo ecco quelli che 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 scuotono il capo e invece Marta fa la sua professione di fede e dice una cosa importantissima tante volte l'ho detto ma la ripeto ad abundanziam io credo questo credo che tu sei il Cristo il Cristo di Dio e che puoi tutto ciò che vuoi ricordate sempre l'ho detto tante volte ma lo ripeto per chi non l'avesse mai sentito per chi non mi conosce Dio può tutto ciò che vuole sempre la storia di prima ma non vuole tutto ciò che può poteva Gesù andare da Lazzaro certo che sì poteva guarirlo prima che morisse ma certo che sì ma poteva che impedirgli che si ammalasse ma certo che sì perché Dio è onnipotente ma non vuole tutto ciò che può pur potendo tutto ciò che vuole perché lui vuole solo il meglio la volontà divina è perfezione assoluta figlioli miei cari sia in quello che dispone e opera sia in quello che permette sempre se ci credessimo veramente e dico amici miei camperemmo pene la vita sarebbe veramente meravigliosa e preoccupazioni zero turbamenti zero angosce zero paure zero perché stiamo nelle mani di colui che tutto può con Dio non può competere nessuno San Paolo dice questa cosa molto importante dicendo tutto concorre al bene di coloro che amano Dio tutto ovviamente di coloro che amano Dio quindi di coloro che vivono in grazia e che vivono nella sua amicizia perché quando non si vive in grazia di Dio le cose non funzionano proprio così allora proseguo la lettura Gesù resta dov'è ossia fa qualche passo avanti e si accosta all'aiuola che circonda la vasca aiuola tutta imbrillantata da quel lato dal puliscolo acqueo dello zampillo che un lieve vento fa inclinare come fosse un piumetto d'argento verso quel lato e pare perdersi Gesù nel contemplare i guizi dei pesci che sono sotto il vero dell'acqua limpida i loro giochi che mettono virgola d'argento e i fessi d'oro nel cristallo delle acque percosse dal sole i giudei lo osservano si sono involontariamente separati in gruppi ben distinti da un lato di fronte a Gesù tutti quelli che gli sono nemici divisi solitamente tra loro per spirito settario ora concordi per osteggiare Gesù al suo fianco dietro gli apostoli ai quali si è riunito Giacomo di Zebedeo Giuseppe e Nicodemo e gli altri spiriti di spirito più benevolo più in là Gamaliel è sempre al suo posto nella stessa posa e solo perché il figlio di Scepoli si sono separati da lui dividendosi fra i due gruppi principali per essere più vicini a Gesù con seguita abituale Rabbonì Maria esce dalla casa correndo a braccia adesi verso Gesù gettandogli sia i piedi che bacia singhiozzando forte diversi giudei che erano in casa con lei e che l'hanno seguita uniscono i loro pianti di dubbia sincerità a quelli di lei anche Massimino Marcella Sara Noemi hanno seguito Maria e così tutti i servi i lamenti sono forti e alti io credo che nella casa non sia rimasto nessuno Marta vedendo piangere così Maria piange forte lei pure la pace a te Maria alzati guardami perché questo pianto simile a quello di chi non ha speranza Gesù si curva per dire piano queste parole gli occhi negli occhi di Maria che stando in ginocchio rilassata sui calcagni tende a lui le mani in gesto di invocazione e non può parlare tanto è il suo singhiozzare non ti ho detto di sperare oltre il credibile per vedere la gloria di Dio è forse mutato il tuo maestro per aver ragione di angosciarsi così ma Maria non raccoglie le parole che la vogliono già preparare alla gioia troppo forte dopo tanta angoscia e grida finalmente padrona della sua voce oh signore perché non sei venuto prima perché ti sei tanto allontanato da noi lo sapevi che Lazzaro era malato se tu fossi stato qui non sarebbe morto il fratello mio perché non sei venuto io dovevo mostrargli ancora che lo amavo egli doveva vivere io dovevo mostrargli che perseveravo nel bene tanto l'ho angustiato il fratello mio e ora ora che potevo farlo felice mi è stato tolto tu me lo potevi lasciare dare alla povera Marita gioia di consolarlo dopo avergli dato tanto dolore oh Gesù Gesù maestro mio mio salvatore speranza mia e si riabatte la fronte sui piedi di Gesù che vengono di nuovo lavati dal pianto di Maria e geme perché hai fatto questo signore anche per quelli che ti odiano e che godono di quanto avviene perché hai fatto questo Gesù ma non è rimprovero nel tono di Maria come l'ha avuto Marta ma solo l'angoscia di chi oltre nel suo dolore di sorella ha anche quello di discepola che sente sminuito nel cuore di molti il concetto sul suo maestro Gesù molto curvo per raccogliere queste parole mormorate con la faccia al suolo si rialza e dice forte Maria non piangere anche il tuo maestro soffre per la morte dell'amico fedele per aver dovuto lasciarlo morire o che sogginio e che sguardi di libido giubilo sono sui volti dei nemici di Cristo lo sentono vinto e gioiscono mentre gli amici si fanno sempre più tristi Gesù dice ancora più forte ma io ti dico non piangere alzati guardami credi tu che io che ti ho tanta amata abbia fatto questo senza motivo puoi credere che io ti abbia dato questo dolore inutilmente vieni andiamo da Lazzaro dove lo avete posto Gesù più che Maria e Marta che non parlano presi come suono da un pianto più forte interroga tutti gli altri specie quelli che usciti di casa con Maria sembrano i più turbati forse sono parenti più anziani non so e questi rispondono a Gesù visibilmente affritto vieni e vedi e si avviano verso il luogo del sepolcro che è ai termini del frutteto laddove il suolo ha delle ondulazioni e delle vene di roccia calcarea che affiorano al suolo Marta al fianco di Gesù che ha forzato Maria ad alzarsi e che la guida perché si è accecata dal gran pianto indica con la mano a Gesù dove è Lazzaro e quando sono presso al luogo dice anche è lì maestro che il tuo amico è sepolto e accenna alla pietra posta obbligamente sulla bocca del sepolcro Gesù per andare là seguito da tutti è dovuto passare davanti a Gamaliele ma né lui né Gamaliele si sono salutati Gamaliele si è ponito agli altri fermandosi come tutti più rigidi farisei a qualche metro dal sepolcro mentre Gesù va avanti molto vicino insieme alle sorelle Massimino e quelli che sono forse parenti Gesù contempla la pesante pietra che fa da porta al sepolcro e da ostacolo pesante tra lui e l'amico estinto e piange il pianto delle sorelle aumenta così quello degli intimi e familiari vorrei fare un'altra piccola pausa breve ecco abbiamo sentito abbiamo visto la scena di Maria Revoltaorta nota che il tono non è di rimprovero ma è uno sfogo di dolore però il problema è che il concetto è fondamentalmente lo stesso c'è sempre quel perché non sei stato qui ora impariamo sempre una cosa una regola di vita a Dio perché non si chiede mai quando ci viene da chiedere perché a Dio ci mangiamo la lingua scacciamo il pensiero perché questa è una cosa che non si deve fare mai perché Dio vuole che noi crediamo fermamente che c'è un perché che lui conosce i perché dei misteri di Dio li conosceremo solo in paradiso qui il Signore vuole che ci fidiamo di noi vuole che ci affidiamo a lui e non ci dà e non ci vuole dare spiegazioni e non ce le deve dare tra l'altro non è tenuto a farlo neanche un po' quindi perché a Dio non si chiede mai perché hai fatto questo Signore abbiamo sentito Maria di Magdala anche la grande Maria e mica una volta sola perché hai fatto questo Signore anche per quelli che ti odiano e che godano di quanto avviene perché hai fatto questo vedete anche la preoccupazione no sti criminali che adesso stanno gongolando no hai visto questo ma di fronte a una malattia vera non l'ha guarito no e invece invece Gesù risponde Maria non piangere anche il tuo maestro soffre per la morte dell'amico fedele qui non vedete il testo ma il testo è in corsivo per averlo dovuto lasciar morire dovuto lasciar morire dovuto e lo sapete perché no perché Dio è il numero uno sempre e il verbo incarnato ha sempre agito da Dio pur essendo vero uomo la risurrezione di Lanzaro è stato l'ultimo dei miracoli diciamo così tangibili di Gesù perché poi ne ha fatti altri che molti ignorano anche anche prima di morire anche sulla croce e addirittura anche da morto ok solo un istante è però il miracolo di Lanzaro era necessario proprio proprio per la sua inequivocabilità perché uno che è morto da quattro giorni è morto da quattro giorni dopo quella malattia dopo che tutti erano stati presenti dopo che tutti erano stati al capezzale quindi amici miei cari capite che roba che è lui fa quello che deve fare dinanzi a quel miracolo si sarebbero dovuti convertire tutti tutti e tutta quella gente che sta lì e tutta quella gente che stava lì sono coloro che poi al processo religioso l'avrebbero condannato ingiustamente sono coloro che anziché convertirsi si sono ancora di più induriti vedendo quel miracolo ma al nostro Signore non gliene importa nulla lui non scende mai a livello lui dà tutti i segni che deve dare fa tutto quello che deve fare in modo tale che i molti che si dannano perché sono molti quelli che vanno a finire dannati ci vanno per colpa propria e attenzione nel momento stesso in cui finiscono dannati prendono coscienza del fatto che ci vanno proprio per colpa propria perché il Signore gli fa rivedere tutto quello che è stato realmente fatto per loro di bene e che hanno respinto nell'altra parte domine Dio non si fa dire da nessuno potevi fare questo per salvarmi e non lo hai fatto sono cretinate che noi possiamo dire qui in questo mondo dove non capiamo un tubo niente siamo stupidi eppure cerchiamo grandi intelligentoni e sapientoni queste cose domine Dio non se le fa dire da nessuno chiaro e non perché fa sfoggio di autorità perché se lo facesse chi è che si metta a competere con lui chi è che può controbattere a Dio quelli che bestemmiano anche quei anche quei cretini che fanno dei 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 commenti indicibili sui social cretini che non sono altro se Dio volesse li fulminerebbe seduta a stante ma non lo fai ma il fatto che non lo faccia seduta a stante non vuol dire che un bel giorno non li farà correre non lo fa perché pazienta perché c'ha misericordia d'accordo o perché giudica non essere opportuno fare una cosa di questo genere ma attenzione attenzione io ho detto nella pratica di oggi tra cent'anni siamo tutti morti tutti morti e che gli vai a raccontare non ci credevi a Dio guarda che quando sei morto ci credi per forza perché te lo trovi davanti e te lo trovi e te lo trovi davanti a rispondere di quello che tu hai fatto in questa vita e zitto e mosca perché non potrai dire nulla nulla se non qualora tu fossi dannato cominciare da quel momento ad avere rimorsi e disperazione per tutta l'eternità e a dirti per tutta l'eternità quanto sono stato idiota perché mi sono dannato solo per colpa mia solo per colpa mia averlo dovuto lasciare morire ora chiari amici che questa sera non non finiremo questo brano perché è abbastanza lungo però andremo avanti ancora un pochino ultima parola di di commento ti dico non piangere alzati guardami credi tu che io che ti ho tanto amato abbia fatto questo senza motivo questo lo dice a lei ma lo dice anche a noi puoi credere che io ti abbia dato questo dolore inutilmente noi ci dobbiamo pensare a queste cose io mi sto sgolando sto continuando a ripetere in tanti interventi che la fede e la ragione vanno d'accordo qui Gesù la sta invitando a riflettere ma hai visto quanto ti ho amato hai visto da dove ti ho tirata fuori hai visto quello che ho fatto per te quindi puoi pensare che abbia fatto questo senza motivo puoi credere che io ti abbia dato questo dolore inutilmente ma lo sappiamo e ci crediamo che il Signore ce li risparmierebbe tutti i dolori tutti tutti se non ci fosse stato il peccato che ha reso necessario il dolore e la croce per il nostro bene ma nostro Signore non ce ne darebbe neanche uno neanche uno quelli che ci manda ce li manda perché sono necessari al nostro bene c'è un passo bellissimo delle lamentazioni sono seriamente tentato di prenderlo e di andarlo proprio a leggere anzi facciamo che cedo la tentazione e lo faccio perché è stupendo è è tratto dal libro delle lamentazioni del profeta Geremia ed è veramente tantissima roba adesso lo ritrovo dovrebbe essere la fine del capitolo 3 o del capitolo 4 ma lo trovo eh amici cari allora il 4 sentite che bello che è questo brano allora qui dopo che in tutto quanto il capitolo 3 si narra di quest'uomo che è stato eh come dire prostrato in dolori in sofferenze in tripolazioni dice buono è il signore con chi spera in lui con l'anima che lo cerca è bene aspettare in silenzio la salvezza del signore è bene per l'uomo portare il gioco fin dalla giovinezza si è da costui solitario e silenzioso poiché egli gliel'ha imposto cacci nella polvere la bocca anziché usarla per parlare a bambera questo lo aggiungo io eh forse c'è ancora speranza porga a chilo per quote la sua gancia si sazi di umiliazioni perché il signore non rigetta mai ma se affligge avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia attenzione poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo lamentazioni 3 33 questo versetto uno con bel copia incolla se lo vado a mettere da qualche parte e ci pensi contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo contro il suo desiderio ma non contro la sua volontà perché se Dio vede che una sofferenza ti è necessaria ti fa bene non si smuove in tutti i modi l'hanno supplicato le sue amatissime Marta e Maria guarisci Lazzaro guarisci Lazzaro guarisci Lazzaro guarisci Lazzaro un mago guarisci Lazzaro e non lo ha fatto perché? perché non era da farsi in quel momento perché Lazzaro doveva passare perché la sofferenza e anche loro perché i giudei dovevano vedere questa cosa e il miracolo è stato fatto quando doveva essere fatto né prima né dopo capiamo? ecco mi fermo perché siamo arrivati già a una cinquantina di minuti abbondanti perché dopo qui entriamo nel vivo la prossima parola che Gesù dirà gridando è levate quella pietra ma la prossima volta riprenderemo proprio dal levate quella pietra e andremo a vedere che cosa succede appunto con l'umiliazione dei figli scusate andremo a vedere che cosa succede con la grande umiliazione in cui Lazzaro è dovuto andare a finire ma la grande esaltazione che succederà a questa grande prova Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga laudentur Jesus et Maria